Ciao a tutti, io sono Gossip e oggi insieme leggeremo la vera storia della Befana. In un villaggio, non molto distante da Bethlehem, viveva una giovane donna che si chiamava Befana. Non era brutta, anzi, era molto bella e aveva parecchi pretendenti, però aveva un pessimo carattere. Era sempre pronta a criticare e a parlare male del prossimo, cosicché non si era mai sposata. O perché non le andava bene l'uomo che di volta in volta le chiedeva di diventare sua moglie. O perché l'innamorato, dopo averla conosciuta meglio, si ritirava immediatamente. Era infatti molto egoista e fin da piccola non aveva mai aiutato nessuno. Era, inoltre, come ossessionata dalla pulizia, aveva sempre in mano la scopa e la usava così rapidamente che sembrava ci volasse sopra. La sua solitudine, man mano che passavano gli anni, la rendeva sempre più acida e cattiva, tanto che in paese avevano cominciato a soprannominarla la strega. Lei si arrabbiava moltissimo e diceva un sacco di parolacce. Nessuno in paese ricordava di averla mai vista sorridere. Quando non puliva la casa, con la sua scopa di paglia, si sedeva e faceva la calza. Ne faceva centinaia, non per qualcuno, naturalmente. Le faceva per se stessa, per calmare i nervi e passare un po' di tempo, visto che nessuno del villaggio veniva mai a trovarla. Né lei sarebbe mai comunque andata a trovare nessuno. Era troppo orgogliosa per ammettere di avere bisogno di un po' di amore ed era troppo egoista per donare un po' del suo amore a qualcuno. E poi non si fidava di nessuno. Così passarono gli anni e la nostra Befana, a forza di essere cattiva, divenne anche brutta e sempre più odiata da tutti. Più lei si sentiva odiata da tutti, più diventava cattiva e brutta. Aveva da poco compiuto 70 anni quando una carovana giunse nel paese dove abitava. C'erano tanti cammelli e tante persone, più persone di quante ce ne fossero nell'intero villaggio. Curiosa com'era, vide subito che c'erano tre uomini vestiti sontuosamente e origliando seppe che erano i re magi. Li chiamavano così. Venivano dal lontano oriente e si erano accampati nel villaggio per far riposare i cammelli e passare la notte prima di riprendere il viaggio verso Bethlehem. Era la sera prima del 6 gennaio. Borbottando e brontolando, come al solito, sulla stupidità della gente che viaggia in mezzo al deserto e disturba, invece di starsene a casa sua, si era messa a fare la calza quando sentì bussare alla porta. Lo stomaco si strinse e un brivido le corse lungo la schiena. Chi poteva mai essere? Nessuno aveva mai bussato alla sua porta. Più per curiosità che peraltro andò ad aprire. Si trova davanti uno di quei re. Era molto bello e le fece un gran sorriso mentre diceva «Buonasera signora, posso entrare?» Befana rimase come paralizzata, sorpresa da questa imprevedibile situazione. Non sapendo cosa fare, le scapparono alcune parole dalla bocca, prima ancora che potesse ragionare. «Prego, si accomodi!» Il re le chiese gentilmente di poter dormire in casa sua per quella notte e Befana non ebbe né la forza, né il coraggio di dirgli di no. Quell'uomo era così educato e gentile con lei che si dimenticò per un attimo del suo caratteraccio e perfino si offrì di fargli qualcosa da mangiare. Il re le parlò del motivo per cui si erano messi in viaggio. Andavano a trovare il bambino che avrebbe salvato il mondo dall'egoismo e dalla morte. Gli portavano in dono oro, incenso e mirra. «Vuol venire anche lei con noi?» «Io?» rispose Befana. «No, no, non posso!» In realtà poteva, ma non voleva. Non si era mai allontanata da casa. Ma tuttavia era contenta che il re gliel'aveva chiesto. «Vole che portiamo al Salvatore un dono anche da parte sua?» «Quista poi! Lei regalare qualcosa a qualcuno, per di più sconosciuto!» Però le sembrò di fare troppo brutta figura a dire di no e durante la notte mise una delle sue calze, una sola, dove dormiva il re Maggio, con un biglietto. Per Gesù. La mattina, all'alba, finse di essere ancora addormentata e aspettò che il re Maggio uscisse per riprendere il suo viaggio. Era già troppo in imbarazzo per sostenere un'altra, seppur breve, conversazione. Passarono trent'anni. Befana ne aveva appena compiuti cento. Era sempre sola, ma non più cattiva. Quella visita inaspettata, la sera prima del 6 gennaio, l'aveva profondamente cambiata. Anche la gente del villaggio, nel frattempo, aveva cominciato a bussare alla sua porta. Dapprima per sapere cosa le avesse detto il re, poi pian piano per aiutarla a fare da mangiare e a pulire casa, visto che lei aveva un tal mal di schiena che quasi non si muoveva più. E a ciascuno che veniva, Befana cominciò a regalare una calza. Erano belle le sue calze, erano fatte bene, erano calde. Befana aveva cominciato anche a sorridere quando ne regalava una e perciò non era più così brutta, era diventata perfino simpatica. Nel frattempo, dalla Galilea, giungevano notizie di un certo Gesù di Nazareth, nato a Bethlehem 30 anni prima, che compiva ogni genere di miracoli. Dicevano che era lui il Messia, il Salvatore. Befana capì che si trattava di quel bambino che lei non ebbe il coraggio di andare a trovare. Ogni notte, al ricordo di quella notte, il suo cuore piangeva di vergogna per il misero dono che aveva fatto portare a Gesù dal Re Maggio. Una calza vuota, una calza sola, neanche un paio. Piangeva di rimorso e di pentimento, ma questo pianto la rendeva sempre più amabile e buona. Poi giunse la notizia che Gesù era stato ucciso e che era risorto dopo tre giorni. Befana allora aveva 103 anni, pregava e piangeva tutte le notti, chiedendo perdono a Gesù. Desiderava più di ogni cosa, rimediare in qualche modo al suo egoismo e alla sua cattiveria di un tempo. Desiderava tanto un'altra possibilità, ma si rendeva conto che oramai era un po' tardi. Una notte, Gesù risorto, le apparve in sogno e le disse Coraggio Befana, io ti perdono, ti darò vita e salute, ancora per molti anni. Il regalo che tu non sei venuto a portarmi quando ero bambino, ora lo porterai a tutti i bambini da parte mia. Volerai da ogni capo all'altro della terra, sulla tua scopa di paglia e porterai una calza piena di caramelle e di regali ad ogni bambino che a Natale avrà fatto il presepio e che il 6 gennaio avrà messo i Re Magi nel presepio. Ma mi raccomando che il bambino sia stato anche buono, non egoista, altrimenti gli metterai del carbone dentro la calza sperando che l'anno dopo si comporti da bambino generoso. E la Befana fece così e così ancora sta facendo per obbedire a Gesù. Durante tutto l'anno, piena di indicibile gioia, fa le calze per i bambini ed il 6 gennaio gliele porta piene di caramelle e di doni. È talmente felice che anche il carbone, quando lo mette, è diventato dolce e buono da mangiare. Bene, questo era il finale della storia della Befana. Vi do appuntamento alla prossima favola. Ciao a tutti da Gossip.